Buongiorno da Sicilia 24 e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di calcio e del Palermo che ieri non è riuscito a ottenere un risultato positivo sul campo difficile ovviamente del Genoa è finita 2 a 0 per il Grifone ma il Palermo ha comunque disputato un'ottima partita non può essere certamente deluso Mr. Corini al di là chiaramente del risultato proprio Mr. Corini a fine partita ha rilasciato alcune dichiarazioni allora sentiamo le sue parole e quelle del calciatore rosanero Nedel Cearo Il risultato sicuramente non ci ha accompagnato e per me meritavamo qualcosa di diverso la prestazione è stata di livello con coraggio con personalità abbiamo giocato in uno stadio importante contro una squadra che ha valori assoluti per la categoria ed in conseguenza dimostra il nostro percorso di crescita dentro sicuramente nelle situazioni che abbiamo avuto a volte non siamo riusciti a finalizzare nella maniera corretta a volte anche quella potenziale molto importante nella scelta finale abbiamo sbagliato qualcosa sicuramente andiamo a casa con rammarico ma con una consapevolezza che questi nuovi risultati che avevamo fatto prima di questa gara hanno consolidato il nostro atteggiamento la nostra organizzazione ed è quello che vogliamo mettere in campo da qui alla fine del campionato Tutte le partite sono una prova, sono un test su cui ci si fanno delle riflessioni andremo a giocare con la capolista che sta facendo un campionato straordinario ci mancheranno due giocatori come Matteo e Segre che sono molto importanti per noi stiamo recuperando altri giocatori da infortuni comunque il campo dei titolari si è allargato e di conseguenza c'è spazio per tutti e tutti devono mettere dentro qualcosa di importante per cercare di fare una grande partita con il Frosinone sono sicuro che spinti dal nostro tifo, dalla nostra gente faremo una grande prestazione Io penso che l'ambizione, come dicevo prima, è uno stato mentale che va alimentato nel quotidiano noi siamo molto ambiziosi nel quotidiano, lavoriamo al meglio e sogniamo sempre di fare delle cose importanti e per noi fare delle cose importanti vuol dire allenarci la grande e cercare di lavorare al meglio per battere la capolista e dopo faremo una riflessione sulla prestazione e sul risultato dopo che l'avremo affrontata non c'è il risultato giusto ma il calcio è così, bisogno di andare a lavorare, lasciare stare questa partita proviamo di vincere domenica perché ne aspetta una partita importantissima anche per i nostri tifosi andiamo a vincere domenica il calcio è così, fa parte del calcio anche le sconfitte, bisogno di vedere, di lavorare c'è bisogno di fare meglio perché sicuramente oggi qualcosa non è andato bene quando perdi ma proviamo con il mister e da lunedì andiamo a lavorare per vincere domenica abbiamo avuto la nostra opportunità di pareggiare primo tempo, anche secondo tempo ma il calcio è così, niente da dire adesso, poco da dire perché già passata questa partita pensiamo solo alla prossima noi pensiamo solo alla salvezza, pensiamo solo alla prossima partita come ho fatto da inizio il goal non cambia niente, va bene non ci sta quando perdi perché sei palermo vai in campo a vincere tutte le partite, ma il calcio è così, andiamo a vincere la prossima ed ora la cronaca partendo da Palermo un incendio divampato in un appartamento di via Maltese a Palermo è costato la vita a una donna disabile a scatenare il rogo potrebbe essere stato un guasto elettrico alla stufa sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma purtroppo per la donna, travolta dalla furia delle fiamme non c'è stato nulla da fare sempre a Palermo i pompieri sono intervenuti in via Maddalena per l'esplosione di una bombola di gas all'interno di un edificio una persona è rimasta ferita ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita cambiamo argomento ma restiamo ancora a Palermo alcuni malviventi nel tentativo di compiere un furto al policlinico di Palermo sono entrati nella centrale tecnologica del nosocomio danneggiando alcuni tubi per la distribuzione del protossido i ladri hanno tagliato anche il tubo di distribuzione dell'aria compressa che alimenta i ventilatori polmonari della terapia intensiva non ci sono state fortunatamente conseguenze per i pazienti ricoverati al policlinico mentre i malviventi sono fuggiti senza rubare nulla sulla vicenda stanno indagando i carabinieri cambiamo ancora argomento adesso parliamo del maltempo sono stati due giorni difficili per la Sicilia a causa del maltempo che ha flagellato diverse zone dell'isola creando disagi e causando seri danni allagamenti, mareggiate, smottamenti, alberi abbattuti, blackout, automobilisti e cittadini in difficoltà intere famiglie isolate per ore tanta ovviamente la paura le forti raffiche di vento e l'intensità della pioggia hanno messo a dura prova la Sicilia ora la regione siciliana fa la conta dei danni e valuta di chiedere lo stato di emergenza in attesa di ricevere la relazione dettagliata sui danni causati dal ciclone mediterraneo ha affermato ieri il presidente Renato Schifani stiamo valutando la possibilità di dichiarare lo stato di crisi regionale e di richiedere quello di emergenza nazionale a Palazzo Chigi ci spostiamo adesso a Trapani e continuiamo a parlare di cronaca un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Trapani ha salvato la vita un detenuto di 49 anni colto da un infarto durante un giro di ispezione la guardia carceraria ha notato che il recluso accusava un grave malore al punto da non riuscire a chiedere soccorso compresa la gravità della situazione ha fatto aprire la cella e ha portato in braccio il detenuto direttamente in infermeria il medico ha chiesto l'intervento del 118 e il trasferimento immediato in ospedale dove sono riusciti a stabilizzare il paziente siamo orgogliosi di questa polizia penitenziaria ha dichiarato il segretario nazionale Consipe Francesco Davide Scaduto abbiamo chiesto, aggiunto, alla direzione dell'istituto penitenziario trapanese di proporre una ricompensa per il personale interessato che ha svolto in modo encomiabile il proprio mandato istituzionale Ed ora nel Messinese, per la precisione a Giardini Naxos dove i carabinieri hanno effettuato un controllo all'interno di un cantiere edile riscontrando delle irregolarità il titolare è stato deferito e sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per oltre 22 mila euro tutti i dettagli nel servizio Nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l'emersione del lavoro nero disposti dal comando provinciale carabinieri di Messina i militari della compagnia di Taormina supportati dai carabinieri del locale nucleo ispettorato del lavoro hanno sottoposto a verifica un cantiere edile allestito a Giardini Naxos all'esito dell'attività ispettiva i militari dell'arma hanno accertato violazioni alla normativa di settore e in particolare la mancata installazione di misure di sicurezza per evitare tra l'altro pericoli di caduta da impalcatura e ponteggi i cosiddetti pericoli da lavoro in quota nonché la mancanza di misure per l'eliminazione del rischio elettrico o la riduzione al minimo il titolare dell'impresa è stato pertanto deferito per la violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro e sono state irrogate ammende e sanzioni amministrative per oltre 22.000 euro con la contestuale sospensione temporanea dell'attività edile scaturita a seguito delle gravi infrazioni riscontrate occorre tuttavia precisare che tutti i lavoratori controllati sul posto dai carabinieri impegnati nelle attività di cantiere sono risultati in regola la campagna dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Messina e del nucleo ispettorato del lavoro nel settore edile proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia con l'obiettivo di continuare nell'incisiva azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità Ci spostiamo nel Trapanese per la precisione a Petrosino dove i carabinieri hanno invece tratto in arresto un malvivente si tratta di un pregiudicato accusato di diversi reati tra questi ad esempio furto in abitazione ma anche ricettazione e altro vediamo il servizio I carabinieri della stazione di Petrosino diretti dalla Procura della Repubblica di Marsala hanno arrestato in esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal GIP del Tribunale di Marsala un pregiudicato classe 87 all'uomo su cui già pendono due condanne definitive per reati contro il patrimonio sono stati contestati diversi capi di imputazione tra cui furti in abitazione, ricettazione di merce rubata e in debito utilizzo di carte di credito le indagini di carabinieri e procura svolte attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza escussione delle vittime e servizi di pedinamento in orari notturni hanno consentito di ricostruire numerosi reati commessi dall'indagato in pochissimi mesi spesso in concorso con altri soggetti rimasti al momento ignoti la scorsa estate una coppia di pensionati aveva denunciato un furto presso la propria abitazione di Petrosino e la sottrazione di tutto il denaro contenuto in una carta di credito proveniente dalla loro unica pensione le indagini hanno permesso di individuare gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato il quale avrebbe speso i quasi 2000 euro contenuti nella carta di credito degli anziani per fare acquisti di varia natura durante l'autunno un furto di gasolio all'interno di un'azienda agricola il furto di un'auto a un altro pensionato e la ricettazione di un'autovettura rubata sono stati ricondotti all'indagato il quale peraltro avrebbe commesso i delitti guidando nonostante la mancanza di patente una macchina anch'essa proveniente da reato sulla quale custodiva Grimaldelli e vari arnesi atti allo scasso inoltre l'11 dicembre scorso l'indagato avrebbe tentato di sottrarre armi da un'armeria del paese non riuscendovi solo perché il titolare si era accorto della presenza dei ladri la gravità degli indizi collezionati da carabinieri e procura a carico dell'indagato ha consentito al GIP di ordinarne l'arresto ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico Torniamo a Palermo per un'altra notizia di cronaca che riguarda in questo caso una bambina di appena 20 mesi che è stata accompagnata dalla madre all'ospedale dei bambini appunto a Palermo dopo aver ingerito della marijuana fortunatamente la piccola che si è sentita male mentre si trovava a casa degli zii dopo le cure effettuate si è ripresa sta meglio i carabinieri hanno perquisito l'abitazione dei genitori i quali non hanno saputo dare una spiegazione a quanto accaduto alla loro figlia si tratta purtroppo dell'ennesimo caso in Sicilia il primo in questo 2023 di bimbi finiti all'ospedale di Cristina dopo aver ingerito della sostanza stupefacente notizia invece dalla Siracusano per la precisione da Floridia dove i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere un pregiudicato di 45 anni che dal 2017 al 2022 si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti delle ex moglie l'uomo è stato tratto in arresto e trasferito presso la casa circondariale di Siracusa a Trapani invece sono 4 le persone arrestate per sfruttamento del lavoro assumevano lavoratori attraverso una società di intermediazione e li sfruttavano e sottopagavano impiegandoli anche in mansioni diverse da quelle previste dal contratto di operatore del commercio retribuendoli, secondo le indagini meno di 2 euro l'ora per un ammontare che non superava i 500 euro al mese l'attività investigativa della squadra mobile di Trapani con il supporto dei colleghi di Caltanissetta ha portato a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di 4 persone, i titolari dell'azienda due fratelli di Caltanissetta e due loro dipendenti sono accusati, a vario titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stata inoltre disposta la misura cautelare reale del controllo giudiziario dell'azienda con la nomina di un amministratore per la gestione l'indagine è stata avviata nell'inverno scorso nei confronti di una società con sede a Musso Meli che allestiva un nuovo punto vendita a Trapani inaugurato nella primavera scorsa l'azienda di intermediazione faceva sottoscrivere ai dipendenti i contratti di lavoro part-time che prevedevano 24 ore settimanali articolate su 6 giorni per poi impiegarli a tempo pieno e ben oltre lo stesso orario ordinario previsto anche per contratti full-time i dipendenti erano in sostanza costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio per 10-11 ore al giorno per una retribuzione di circa 500 euro mensili senza vedere assicurato in molti casi neanche il riposo settimanale i lavoratori venivano impiegati per mansioni assai diverse rispetto a quelle previste dal contratto del settore commercio carpintieri, manovali, imbianchini addetti alle polizie e financo in servizi di guardiania notturna analoghi episodi erano stati in precedenza commessi durante le fasi di apertura di un punto vendita a Castelvetrano nel 2018 le indagini sono state supportate da attività ispettive e accertamenti tecnici da parte del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Trapani che proseguono gli accertamenti insieme all'Inps per quantificare l'entità complessiva delle violazioni e dei versamenti omessi per il momento è tutto ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24 a Castelvetrano nel 2018